Nuovo guasto al termovalorizzatore di Bolzano. Il gestore Eco Center ha avviato il processo di spegnimento dell'impianto. L'APA, Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, rende noto che lo spegnimento procede in modo lento e con una produzione di emissioni in monossido di carbonio e di carbonio organico totale al di sopra dei valori limite. Secondo l'Agenzia, attualmente non vengono registrati valori anomali nella qualità dell'aria. Il guasto si è verificato nella giornata di ieri verso le 20 con il blocco del turbogeneratore per la produzione di energia elettrica. Dalle prime informazioni fornite dal gestore Eco Center è possibile che il problema sia legato ad un'anomalia nell'alimentazione ad alta tensione. A questo evento si è aggiunto il guasto della valvola di sicurezza della caldaia che ha costretto il gestore ad avviare il processo di spegnimento senza il supporto dei bruciatori ausiliari. L'Agenzia provinciale conferma che durante tutta la fase dello spegnimento viene garantito il funzionamento dei filtri e del sistema di misurazione degli inquinanti. I dati e i campioni così raccolti consentiranno all'Agenzia di seguire in tempo reale l'andamento delle emissioni e di poter successivamente valutare le eventuali emissioni di diossine.